e mancano ancora cinque paesi e i giochi sono fatti ci fermiamo solamente un attimo e torniamo in diretta da Malmo con Mara Maionchi e Gabriele Cossi Lo sport lo insegna Agilità Versatilità Nova Swift Hybrid Compatta, ibrida e anche 4x4 Suzuki, passione per lo sport Suzuki Se volete un divano per vedere le partite Venite solo in Porto del Sofà Alex, che assist che mi fai? Se mensi con due puffs correvoli E al 40% di sconto Solo 699 euro Ma solo fino a domani Ragazzi, siamo quasi al novantesimo E alle gara solo 1398 euro Sono solo due dei tanti in negozio In più, su oltre 90 divani Il ritiro dell'usato è gratis Lo prendo, solo per l'Italia Poltrone Sofà, solo divani Di qualità Il mondo dell'energia ti sembra complicato E hai bisogno di una mano per capirci qualcosa A semplificare la vita alla sua famiglia Ci pensa Mano A semplificare la vita a te E ci pensa Win3 Passa Win3 Luce e Gas Un nuovo modo di semplificare l'energia Bollette chiare E consulenza personalizzata Portaci la tua bolletta Qui ti danno sempre una mano Win3 semplifica Connessione Energia Assicurazioni Per la tua tenda da sole Scegli un tessuto ecosostenibile Scegli Tempotest Starlight Blue Tempotest Da più di 100 anni Nelle case degli italiani Qual è la tua routine per il sistema immunitario? Fai colazione con G.Mil Benefit Vitamine Il latte senza lattosio Fonte di vitamine B12, D, B6 e acido folico Che contribuiscono alla normale funzione del sistema immunitario Qualunque sia la tua routine Scegli Zimil Benefit Nello sport la disciplina è tutto Metto sempre in campo la mia migliore difesa Con Antelios UVMUN 400 Proteggi la tua pelle dal sole Ogni giorno La Roche Posay Buongiorno Sono già stanco Stanchino Stanco A volte la routine sembra fatta solo di stanchezza Ma da oggi hai un piano B Nuovo Betotal Bifase Con la sua tecnologia a rilascio in due tempi Da una ricarica rapida alla tua energia E un sostegno prolungato contro la stanchezza Betotal L'energia con la B maiuscola Raffo Lavorazione Grezza La nuova birra pugliese dal gusto che più pugliese non si può Arricchita con cereali non raffinati Indovinate di dove? Pugliesi Raffo Lavorazione Grezza Decisamente pugliese 22.51 in diretta della Marmarina per la finalissima Del 64esimo Eurovision Song Contest Grazie mille